Io ho avuto la fortuna di lavorare tre anni con Pepe a Liverpool. La mia esperienza è stata sempre bellissima con lui nel rapporto personale e professionale. Lui è un ottimo portiere, una ottima persona, è uno dei top che ci sono al mondo oggi, è un portiere del livello del Napoli. Il Napoli è una squadra top e deve diventare una squadra anche più forte. Pepe è su questo livello di portiere e noi pensiamo che con lui diventeremo una squadra anche fortissima. Come professionista è un portiere che ti dà tanto, ti dà tanto come leader positivo dentro della squadra, dentro dello spogliatoio, come leader positivo dentro del campo. A livello più specifico è uno che ti dà tanto anche giocando con la squadra, gestionando lo spazio in fronte a lui. È un portiere moderno e per tanti anni è stato un riferimento per i portieri giovani di tutta Europa. Allora io sono contentissimo e come dico ho avuto già la fortuna di lavorare con lui. Tutto quello che posso dire è positivo e penso che ci aiuterà tanto.